Curra, curra, vaglio! Curra, curra, vaglio, io, io, io! Curra, curra, vaglio! La sfida possibile è di promuovere la cura del sé ed il recupero della memoria attraverso il racconto autobiografico. I protagonisti sono gli anziani che vivono nelle strutture residenziali. A loro è rivolto il progetto Memory che l'assessorato al welfare del Comune promuove in collaborazione con l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e Politiche Sociali del CNR. Nella sala giunta del Comune il tema è stato oggetto di un incontro sull'invecchiamento attivo, durante il quale è stato presentato anche il volume della ricercatrice Tiziana Tesauro che ha presentato i risultati ottenuti con l'attività della narrazione in una struttura residenziale napoletana. Utilizzando la metodologia della ricerca-intervento, il progetto Memory mira anche a mantenere alto il livello di autonomia sociale e le capacità delle persone anziane che vivono nelle strutture residenziali.